Andiamo avanti e adesso parliamo di un'altra sottofamiglia degli idrocarburi. Siamo sempre nella famiglia degli insatori, abbiamo appena finito di vedere gli alcheni, ora parliamo degli alchini. Gli alchini sono quella sottofamiglia degli idrocarburi insatori che hanno almeno un carbonio con un'ibitazione sp1. Vediamo che cosa vuol dire avere un'ibitazione sp1. Questa, come vi ho visto prima, è l'ibitazione normale in cui i sei elettroni del carbonio sono impegnati due nel primo guscio energetico dell'atomo completandolo e altri quattro nel secondo guscio energetico, ovviamente senza completarlo. Quando questo atomo acquisisce l'ibitazione sp1 abbiamo questa configurazione in cui l'orbitale s e un orbitale p del secondo guscio salgono di livello rispetto agli altri due. I quattro elettroni si distribuiscono in modo omogeneo dentro questi quattro sottoorbitali e quindi abbiamo questa configurazione elettronica. Che cosa comporta avere questa configurazione elettronica? Che praticamente possiamo avere con questi quattro elettroni un legame triplo con lo stesso atomo e un legame singolo. Come abbiamo già visto nel caso dell'ibitazione sp2, quando il legame è doppio o come in questo caso triplo, abbiamo che un legame di questo legame doppio-triplo è sempre un legame sigma, ovvero un legame forte, perché gli orbitali che si fondono per formarlo si deformano molto poco e quindi rimane forte. Il secondo, nel caso dell'sp2 ma anche qua, e il triplo, soprattutto qua, legame di questo legame triplo, si formano deformando moltissimo gli orbitali interessati perché questa è la forma dell'atomo, quindi ovviamente se questi orbitali che sono paralleli tra loro si devono fondere per creare il legame, giustamente si indeboliscono. E quindi nel legame triplo dell'sp1 abbiamo che di questo legame triplo uno è forte, definito legame sigma, perché gli orbitali si deformano poco legandosi, e gli altri due invece sono due legami pi greco, quindi deboli, perché la grande deformazione di questi legami per fondessi ovviamente li indebolisce moltissimo. Ovviamente invece, come nel caso dell'sp3, il legame singolo e tutti i legami singoli sono sempre legami sigma, quindi in questo caso avremo un legame triplo di cui uno sigma e due pi greco e poi un legame singolo di tipo sigma, e quindi ovviamente abbiamo questa grande caratteristica. Qui possiamo vedere un esempio di questo legame, qui abbiamo due carboni legati con il legame triplo e il legame singolo impegnato con un idrogeno. L'angolo caratteristico di questa molecola è di 180 gradi, quindi vedremo che così come nel caso dell'sp1 l'angolo caratteristico è 109,5 gradi, nel caso dell'sp2 è 120 gradi, in questo caso nell'sp1 è 180 gradi. Qui possiamo vedere come si rappresenta la molecola, il legame triplo è rappresentato da tre righe, quindi ovviamente ogni riga corrisponde a una coppia di elettroni, quindi il legame triplo coinvolge tre coppie di elettroni, in tutto sei elettroni. Poi vedremo che il legame triplo è molto più corto del legame doppio o singolo, perché più il legame diventa forte, singolo, doppio, triplo, e più ovviamente la forza che tiene uniti gli atomi è forte e di conseguenza questi atomi sono più vicini. Quindi il legame triplo sarà più corto di quello doppio, il legame doppio sarà più corto di quello singolo, e così via. Detto questo, ora vediamo la nomencatura degli archini, che segue le stesse regole viste prima. si deve individuare la catena di carbonio più lunga al netto di eventuali radicali, come abbiamo già visto nei casi precedenti, e si nomina la molecola tenendo conto il numero di carboni che la compone e il suo suffisso ino, perché sto parlando di archini. Quindi qui vediamo due carboni, abbiamo il legame triplo dei carboni con l'angolo tipo di 180 gradi tra i legami triplo e quello singolo, e qui vediamo i due orbitali paralleli tra loro che si deformano moltissimo legandosi formando i due legami pi greco del legame triplo, il legame sigma sta qua in mezzo e coinvolge due orbitali che si deformano poco, e poi si numerano i carboni della catena in modo da dare al primo carbonio con legami triplo il numero più piccolo. La formula generica degli archini è del tipo CnH2n-2, ovvero gli idrogeni sono il doppio meno due dei carboni. Vediamo questo esempio, C7H12, ovvero 7 per 2 fa 14, meno 2 è 12, quindi è un archino, perché vediamo che l'idrogeno è il doppio meno due dei carboni. Vediamo questa molecola, qui abbiamo una versione rettilinea, quindi al netto di radicali di questa molecola, e vediamo che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carboni, quindi l'unica catena più lunga è quella carbonica di 7 carboni. Possiamo dire già che è un Ept, perché Ept vi ricordo che vuol dire 7 carboni. Poi Ino, perché appartiene alla famiglia degli archini, l'abbiamo visto vedendo che il rapporto tra idrogeni e carboni rispetta la formula generica degli archini, dove gli idrogeni sono il doppio meno due dei carboni. E poi dobbiamo specificare quale carbonio di questa catena ha ibridazione sp1 e vediamo dalla formula di struttura che è il secondo carbonio. In realtà sarebbe anche il terzo carbonio, perché come minimo i due carboni devono essere ibridati sp1 affinché ci sia un legame tripe tra loro, però a noi ci interessa il primo carbonio con ibridazione sp1 ed è il secondo. Quindi questa molecola si chiama 2-Eptino. Possiamo vedere anche una versione radicale di questa formula bruta, in cui abbiamo una catena carboniosa con 6 carboni e un radicale in uno di questi carboni. Quindi, come si chiama questa molecola? Dobbiamo prima contare i carboni della catena principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi è una catena con 6 carboni. Poi dobbiamo identificare qual è il primo carbonio ibridato sp1 o meglio, il carbonio ibridato sp1 più vicino a una coda o una testa della catena. In questo caso è questo il secondo, quindi praticamente io comincio a contare la catena da questo carbonio. Allora siamo a un 2-E-S-I-NO perché stiamo parlando di archini. Poi c'è un radicale. C'è un radicale nel quinto carbonio della catena e quindi il nome definitivo di questa molecola sarà un 5-metil-2-E-S-I-NO. 5-metil perché il radicale metil ce l'ho nel quinto carbonio. 2-E-S-I-NO perché il primo carbonio ibridato sp1 di questo alchino è il secondo della catena. Quindi questa molecola ha la stessa formula bruta di quest'altra molecola. Sono due forme someriche del C7H12 e come vedete le regole alla fine sono sempre le stesse. Dobbiamo sempre ricordarci di capire dal rapporto tra carboni e idrogeni se è un arcano, un arcano o un alchino e ovviamente considerare sempre questo nel suffisso finale della molecola. In questo caso esino perché è un alchino. Detto questo possiamo vedere in dettaglio la nomenclatura degli idrocarburi come nelle altre volte. Ovviamente sempre la stessa per tutti gli alchini in generale. Quindi vediamo che il metino non esiste perché non esiste un alchino con un solo carbonio che abbia un'ibidazione sp1 perché avendo un legame triplo servirebbe un altro atomo con cui si può legare un legame triplo e non può essere un idrogeno e quindi il metino non esiste. Però già esiste invece l'etino quindi l'alchino con due carboni e due idrogeni perché 2 per 2 fa 4 meno 2 fa 2 quindi questa regola rispetta quella degli alchini e questa è la formula di struttura. Si vede benissimo che il legame triplo interessa i due carboni. Poi abbiamo il propino C3H4 3 per 2 fa 6 meno 2 4 e quindi questa regola rispetta quella degli alchini. Abbiamo che il legame triplo ovviamente non interessa tutti i carboni ma solamente una coppia di carboni e dobbiamo specificare che questo è un 1 propino dove praticamente il primo carbonio evitato a sp1 è il primo. Ancora abbiamo il butino C4H6 4 per 2 8 meno 2 6 quindi questa formula rispetta quella di struttura anche in questa formula di struttura vediamo che il legame triplo si trova tra i due carboni i primi due quindi questo si può specificare come un 1 butino ancora avanti abbiamo il pentino C5H8 5 per 2 10 meno 2 8 esino C6H10 e così via con l'eptino l'ottino il nonino il decino e così via ancora vorrei un attimo soffermarmi sull'esino qui questi due esempi in cui abbiamo due forme di isomeria di catena infatti qui vediamo che sono sempre due esini però i carboni i bidati sp1 sono diversi quindi dobbiamo sempre specificare nella nomenclatura di quale forma di isomerica stiamo parlando quindi qui abbiamo due versioni il 5 metil 2 esino e il 2 metil 3 esino come vedete in questo caso si conta da destra verso sinistra perché si comincia a contare con il carbonio più vicino al primo carbonio i bidato sp1 quindi in questo caso il primo carbonio i bidato sp1 sta a destra e ovviamente si comincia a contare da destra e il radicale risulta trovarsi nel quinto carbonio al contrario dall'altra parte invece abbiamo che si comincia a contare da sinistra quindi il carbonio con metile è il 2 le regole sono semplici basta ricordarsi che dobbiamo cominciare a contare la catena carboniosa con il carbonio più vicino al primo carbonio i bidato sp1 e poi su quello ci si basa su quale carbonio è agganciato il radicale sono sempre le stesse regole applicate a tutte le molecole viste fino ad ora e poi ovviamente dopo il decino c'è il carbonio con 11 12 13 carboni e così via quindi ovviamente la regola è sempre la stessa anche gli archini hanno la loro forma ciclica e come tutti gli idrocarburi anche qui la formula generica ha due idrogeni in meno rispetto a quella lineare ed è così quindi la formula diventa CnH2n-4 quindi dobbiamo togliere due idrogeni in coda e in testa per poter chiudere la catena in un ciclo chiuso però qui dobbiamo fare una precisazione un ciclo archino consiste in un anello chiuso di atomi di carbonio contenente uno o più legami tripli a causa della sua natura quasi lineare l'unità con legame triplo dove abbiamo il legame triplo tra due carboni è molto rigida e crea una forte tensione per vincere la tensione dell'anello l'anello deve essere abbastanza largo da poter mantenere questa struttura e quindi non esistono archini più stabili con meno di 8 carboni il primo ciclo archino stabile è il ciclo ottino è vero che in laboratorio è possibile crearli e conservarli anche diversioni con carboni inferiori però il ciclo archino con massa minore che rimane stabile è quello con 8 carboni C8H12 qui vediamo la molecola vediamo evidenziato il legame triplo con tre linee e poi in ogni vertice non interessato dal legame triplo c'è un gruppo CH2 mentre nei vertici interessati dal legame triplo abbiamo solamente un carbonio questi sono i due carboni ibridati SP1 mentre gli altri sono tutti quanti SP3 e tra loro c'è un legame triplo detto questo vediamo quali sono le proprietà fisiche degli archini lo stato fisico dipende dalla ramificazione e dal numero di carboni delle catene etino, propine e butino a temperatura ambiente sono dei gas molecole fino a 14 carboni sono liquidi e oltre si trovano allo stato solido anche queste come tutte le molecole organiche sono apolari e quindi queste sostanze non si sciolgono facilmente in solventi polari come l'acqua parliamo dell'acidità degli archini in base all'ibridazione degli atomi di carbonio questi possono avere una diversa elettronegatività vi ricordo che il carbonio ibridato sp1 ha una elettronegatività maggiore del carbonio ibridato sp2 che a sua volta è più elettronegativo quindi ha una elettronegatività maggiore del carbonio ibridato sp3 vi ricordo che l'elettronegatività è quella proprietà degli atomi di poter strappare un elettrone o comunque ionizzare un altro atomo questo può dare ad alcuni atomi la capacità di comportarsi come un acido perché può strappare un idrogeno a un'altra molecola o comunque sia ionizzare una molecola e questa liberare ioni h più quindi l'acidità di un idrocarburo è direttamente proporzionale alla sua elettronegatività gli idrocarburi con carbonio ibridato sp1 hanno la capacità di ionizzare altre sostanze e quindi creare acidità per esempio qui vediamo che l'etino è un acido migliore delle tene e a sua volta l'etene è un acido migliore dell'etano quindi vedete che la capacità acida degli alcani cambia con la loro ibridazione quindi le molecole che hanno carboni con ibridazione sp3 sono meno acide di quelle che hanno carboni con ibridazione sp2 e a loro volta quelle che hanno ibridazione sp2 sono meno acide di quelle che hanno ibridazione sp3 questo è solamente un estratto della lezione completa di chimica organica nella lezione completa parlerò delle varie ibridazioni del carbonio vedremo la nomenclatura degli idrocarburi alifatici e aromatici poi parleremo dei radicali e dei gruppi funzionali e infine vedremo le proprietà fisiche che tutte queste molecole hanno in base alla loro struttura molecolare troverete questo ed altro ancora nella lezione completa numero 12 della chimica facile la chimica organica sul mio canale youtube e sulle pagine instagram e facebook prof antonio loiacono grazie 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 grazie